Sprende la cornice di pubblico a Secchiano per i derbi tra Nuova Fete e Pietracuta. Finisce in parità una gara combattuta e agonisticamente valida che accerta la reazione dei locali dopo gli ultimi risultati negativi e la determinazione degli ospiti, non brillanti sul piano del gioco come in altre occasioni, ma con qualche rimpianto per i due legni colpiti nel primo tempo. Ma c'è da dire che di mezzo c'è stato il cuore dei ragazzi Dennis Guerra e quel calore dato da una tifoseria forse unica nel suo genere che dal 2011, anno di fondazione di questo club, segue la propria squadra con passione, senza far sentire la propria anche nei periodi di Natale quando si richiedeva, nonostante la festa paesana, di poter giocare la partita al comunale di Nuova Feltria. Così non è stato, fumogeni a portata di mano, giallo-blu, urla, piccoli bambini a supporto e sventolio delle bandiere dei bandieroni, perché 500 anime in un derbi che non si giocava da 10 anni sono tanta cosa. In una Romagna forse dimenticata da qualcuno, ma che come diceva Tonino Guerra, l'ottimismo è il profumo della vita. Deva venne respirata troppo, di buona sorte, il buon fratti, quando dopo due minuti apre le danze esibendosi in un doppio palleggio spettacolare in area di rigore, il cui tiro di sinistro è respinto dalla traversa. Con l'ausilio dei due cameraman d'eccezione, per l'occasione Elisa Drudi e Paolo Arcangeli, ci gustiamo i reprei giocando in questo servizio con la Cam 2, cercando di scovare le particolarità delle azioni. Per l'ex novasecchiano, il gol non arriva, sul proseguimento dell'azione viene chiamato alla parata a terra il portiere Ronci. Al quinto minuto risponde Nova Felti a Cotomasso Raffaelli. La Sanni sbaglia lo stop sul retropassaggio di un difensore, ma poi mura il tiro dell'attaccante locale, che forse pecca di freddezza. Altra ghiotto occasione per i locali, al minuto 17 con la punizione dell'ex Fabrizio Cupi, che serve un altro ex, Gabriele Raffaelli, cui colpo di testa a due passi termina a lato. Dalla parte opposta, Ronci è chiamato a smanacciare una pericolosa situazione in area di rigore, ma la gara si sblocca esattamente al minuto 39. A Loi tocca di mano in aria e viene espulso per doppia munizione. Le proteste sono continue, ma l'arbitro rimane impassibile. Rigore per il Nova Felti. Dal dischetto Mattia Stefanelli si ripresenta dopo aver sbagliato in rigore a Riccione nell'occasione con lo spunticciolo, ma dopo averne anche già realizzati due in stagione. Il nazionale samarinese non perdona Fredda Lasagni, sigrando l'ottavo centro in stagione, il terzo dagli 11 metri. La gioia per lui e i compagni è incontenibile. Usiamo la Cam 1 ed infine la Cam 2 per vedere i momenti di gioia. Parità numerica tra le squadre ristabilita a fine tempo con l'espulsione di Federico Ceccaroni, reo di una brutta entrata, sull'avversario. La seconda stagione tra l'altro dopo quella ottenuta sul difficile campo dell'Igea Marina. L'arbitro estrae prima il giallo, poi dopo incessanti proteste il rosso-blu richiama a sé l'attenzione del centrale difensivo di casa e lo allontana anzitempo dal terreno di gioco. Sul proseguimento dell'azione nel recupero Alilai supera Gabriele Raffelli. Il palo evita a Ronci la capitolazione. In sottofondo si sente anche il suono del legno colpito dall'attaccante. Al secondo anno tra l'altro in maglia rosso-blu, una scommessa del DS Sandro Conti. Inizia la ripresa e Nova Feltia vuol difendere il vantaggio. Pietracuto all'assalto del pareggio per riequilibrare un match dove i rosso-blu sono apparsi leggermente sotto tono. Proprio nelle prime battute, Stefanelli pericoloso con una pregevole girata al volo che termina fuori. Ancora l'attaccante sanmarinese pericoloso al cinquantesimo da fuori aria che non inquadra la porta difesa dalla Sanni. Proprio il Reprei ci mostra l'arma del nazionale sanmarinese e diventa verde come la maglia quando si arrabbia, si trasforma nell'incredibile Hulk e forza fisica a falla da padrona. Peccato per lui che in questo caso non inquadri il bersaglio. Il Pietracuto intensifica a questo punto gli attacchi nel finale e una punizione di Balducci termina alta. Ronci controlla la situazione. L'ottantesimo palloretto di Fabi da limita e dà solo l'illusione del gol. Con Ronci come da Reprei che accompagna la sfera sopra la traversa essendo sulla traiettoria ma nel rialzarsi quasi non ci crede neppure lui. Nel frattempo viene allontanato per proteste l'assistente numero uno bilancioni. Guai a definirlo assistente numero due. Espulsione rimediata e allontanamento dal campo anzitempo. All'ottantacinquesimo l'undici di Freniani trova il pareggio. Punizione calciata da sotterra in aria per la Lilai che arriva sul fondo e crossa sul secondo pallo dove rompe. Baschetti pronto alla deviazione. Vincente. Festa grande per il Pietracute. Sogno spezzato per il Nuova Fete che aveva cullato più di un'ora l'idea di portare a casa l'intera posta in paio. Il reprei ci mostra la deviazione vincente sotto misura di Baschetti per l'1-1 finale. Ma prima del tripice fischio Fratti prova a lasciare il segno su punizione ma all'ottantanovecimo la potente bordata da 35 metri termina fuori. Anche se Ronci passa più di un minuto da Brivido. Bollo plastico ma sfera sul fondo. Ultimo sul sulto targato Nuova Feltri al 94esimo con piloto che di testa impegna l'attento Lassagni costretto alla deviazione in corner. Non fortunato l'ex attaccante dello Scott 2M con il Nuova Feltri ha assigurato i gol vittori questa stagione con il Villalta. Pareggio giusto in Nuova Feltri sotto l'ostacolo ci mette cuore voglia e determinazione. Il Pietracuta è apparso troppo superficiale e tese in un derby dove forse si pensava di uscire con i tre punti. A beneficiarne è Ligia Marina che a lunghe classifica proprio sui Rossoblu laureandosi campione d'inverno a fine girone d'andata. A tripice fischio finale tutti contenti manco a dirlo ai due allenatori. Sentiamoli. La squadra ha sofferto il Nuova Feltri nel primo tempo anche se non abbiamo concesso molto perché il rigore è loro. Potevamo gestire la superiorità numerica invece non abbiamo né gestito né la superiorità numerica né il risultato. Però non abbiamo giocato bene, non è il nostro modo di giocare.